In primo luogo serve un potenziamento dei collegamenti per quanto riguarda il superamento dell'isolamento della regione. Ad oggi sia i collegamenti stradali che quelli ferroviari penalizzano il territorio in quanto i collegamenti non sono efficienti e quindi è emersa una necessità per le imprese di potenziare questo tipo di infrastrutture.